Continua questo giro per i comitati, devo dire che va davvero bene, la gente risponde, la gente entusiasta e il progetto è quello che serve al Mazzara. La gente sta comprendendo che serve una svolta consapevole, sono realmente convinto che il giorno 25 maggio per noi sarà davvero un bel successo. Stiamo facendo una bellissima campagna elettorale all'insegna del sorriso del dialogo con la gente, perché devo dire, cari cittadini, che questa campagna elettorale, assieme al nostro candidato sindaco Toniscilla, è l'insegna del dialogo. Quello è il dialogo che è mancato cinque anni in questa amministrazione comunale. Mazzara del Vallo ha un urgente bisogno di riprendersi, ha bisogno di un'amministrazione che si dia completamente al proprio popolo. Grazie a Toniscilla pensiamo di farcela, non sbagliamo, questa volta Mazzara non può sbagliare. Siamo veramente al culmine di questa battaglia elettorale, una battaglia che abbiamo portato avanti con successo devo dire.